Ieri il Berna ha perso con onore della Dinamo Mosca per 3 a 1, oggi ha battuto la squadra di casa e gli occheri di Helsinki per 1 a 0. Il punteggio strimizzito indica una grande prova difensiva del Berna e in particolare del suo portiere Renato Tosio, miglior uomo in campo, ma anche l'opportunismo di un giovane, Micheli, che a sette minuti dalla fine ha raggelato il pubblico di Helsinki segnando il gol partita. Ora il Berna dovrà battere i campioni austriaci del VILAC per arrivare in finale.